Avevano incendiato quasi un ettaro di campagna nel comune di Castelfranco Piendiscò dopo aver tagliato e bruciato alcuni cespughi. Adesso è scattata la denuncia per tre operai di una ditta specializzata nella manutenzione boschiva. Le fiamme erano divampate lo scorso 18 febbraio, in fumo erano così andati circa 8.400 metri quadrati di vegetazione. A ricostruire l'accaduto sono stati i carabinieri forestali della stazione di loro ciuffenna che hanno individuato i responsabili dell'incendio. All'origine del rogo il fuoco e degli scherti vegetali che gli operai avevano acceso, le fiamme erano così arrivate a lambire un bosco. A lanciare l'allarme erano stati gli stessi operai della ditta che si stava occupando dei lavori di ripulitura di un terreno con taglio di arbusti e bruciamento di resti verdi. I forestali giunti sul posto con l'incendio ancora in corso avevano subito dato avvio alle indagini i tre avevano ammesso che mentre provvedevano a bruciare le piante tagliate un colpo di vento aveva reso le fiamme non più controllabili. Terminati gli accertamenti i militari hanno denunciato i tre operai per incendio boschivo colposo in quanto le fiamme che pure non hanno interessato il bosco potevano estendersi al suo interno. Gli incendi in pieno inverno rappresentano fortunatamente eventi abbastanza rari ma in periodi siccitosi i forestali invitano comunque a prestare la massima attenzione scegliere quindi giornate senza vento riunire il materiale in piccoli cumuli spazi liberi e ripuliti da vegetazione non operare mai da soli ed infine sorvegliare il fuoco sino al suo completo spegnimento.